Al palo sinistra 4 doppia, 50, a fine rail destra 4 meno, 4 meno 50, e al palo sinistra 3 vai, in destra 2 gira per sinistra lunga, 3 vai, destra 2 gira, sinistra lunga, e alla casa Shikan, sinistra veloce, per destra 4 vai, 50, Shikan sinistra veloce, destra 4 vai, 50, sinistra 3, sinistra 3, al palo destra 4 vai, 100, occhio Matte, occhio, 100, alla casa sinistra 3 sale, attento eh, 3 sale, e al rosso destra 4 vai, 50, 4 vai, 50, al palo destra 3 corta vai, 50, corta vai, 50, sinistra 4, 50, al rosso destra 4 meno, 4 meno, sinistra lunga, e destra 4 chiude 3, al rosso vai, destra 4 chiude 3, al rosso vai, allo spiazzo, sinistra 3 chiude 2, sinistra 3 chiude 2, occhio Matte, non tiene davanti, Matte, occhio, destra 4 meno, e al re sinistra 3 vai, dal fine muro sinistra lunga, 100, al bidone in accenno destro, accenno destro, in accenno destro, 50, e al muro tornante destro sale, 50, 50, sinistra 4 vai, 50, questo è sinistro in appoggio, in destra 4, e subito tornante sinistro sale, 50, a finirei sinistra 4 taglia vai, 4 taglia vai, in sinistra e destra 4 vai, stai sinistro per destra 3 vai, in destra 3, in sinistra 4 lunga, e al palo tornante destro largo, destro largo, sinistra 4 vai, 4 vai, in destra 4, 50, 4, 50, e al palo sinistra 4 vai, 100, al rosso destra 4 vai, 50, 4 vai, 50, sinistra 3 gira poco, 3 gira poco, destra 4, tornante sinistro stretto sale, 50, 50, e allo spiazzo destra 5 chiude 4, 5 chiude 4, al rosso sinistra 4, 50 destri, 50 destri, in destra 2 lunga gira, e attenzione l'attito tornante sinistro sale, occhio eh, 100 a vista, e al rosso sinistra 4 vai, 50, 50, 50, chicane entra da destra, non è qui Matteo, allora sinistra 4 vai, 50, chicane entra da destra, è qua, 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 sinistra 4 vai, 50, e al tralizio, 50 a vista, al tralizio 50 a vista, io so quello Matteo, al palo destra 3 doppie scende, 3 doppia scende e al palo destra 4 vai al palo destra 4 vai occhio eh al palo destra 4 vai e al re in destra 4 dopo caso sinistra 3 subito destra 3 vai occhio a destra 3 vai subito eh al palo destra 4 vai 50 stai destro per appoggio sinistro sinistra 3 in sinistra in sinistra in destra in sinistra il re in destra 3 corta destra 3 corta sinistra 3 vai 50 al caso 8 destra 2 larga gira destra 2 larga gira sinistra 3 vai 50 e in appoggio sinistro tramisto 3 vai 50 in appoggio sinistro tramisto alla casa sinistra 3 attenzione Shekana entra a destro sinistra 3 attenzione Shekana entra a destro oi I I I I I I I I Grazie.